Grande Fratello VIP, anticipazioni del 13 Oriana e Antonella riceveranno sorprese. Lunedì 13 marzo ritorna l'appuntamento serale con il Grande Fratello VIP 7, in programma come sempre dalle 21.40 su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti questa nuova puntata rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast, per uno dei quattro concorrenti al televoto giungerà il momento di salutare il resto del gruppo e uscire di scena. Spazio anche a una nuova serie di sorprese che vedranno coinvolte due concorrenti di questa settima edizione, trattasi di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata serale del Grande Fratello VIP 7. In onda lunedì 13 marzo su Canale 5, rivelano che per uno dei concorrenti al televoto arriverà il momento di uscire di scena e abbandonare definitivamente il cast. Giaele, Andrea, Daniele e Nikita sono i quattro concorrenti che si stanno sfidando a questa tornata eliminatoria, uno di loro dovrà dire addio definitivamente al programma e a deciderlo sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Chi avrà la peggio? Al momento i sondaggi social danno come sfavoriti Andrea e Daniele, per uno dei due potrebbe arrivare il momento di dire addio al gioco e rinunciare così alla finale di aprile. Muove anticipazioni su quello che succederà nel corso della puntata serale del GF VIP di lunedì 13 marzo arrivano dalla trasmissione mattino 5. La padrona di casa Federica Panicucci, come ogni settimana, ha fornito degli spoiler sui contenuti dell'appuntamento di questa sera. Al centro dell'attenzione ci saranno due concorrenti molto amate dal pubblico delle reality show condotto da Alfonso Signorini. Trattasi di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, le quali riceveranno delle sorprese inaspettate da parte della produzione, che permetterà loro di poter celebrare nel migliore dei modi i loro compleanni. Occhi puntati in primi sulla sorpresa che riceverà Antonella, la ragazza, in questi giorni. Ha dovuto affrontare la separazione dal suo fidanzato Edoardo Donnamaria, squalificato definitivamente dal cast delle reality show per una serie di atteggiamenti inadeguati. Non si esclude che la sorpresa di Antonella, nel corso della puntata serale di questo lunedì, possa avere a che fare proprio con il suo fidanzato Edoardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.